Bella raga, ciao cariii Benvenuti in Kiwi E benvenuti ragazzi, benvenuti Bentornati, auguri Auguri, auguri, auguri di che Benvenuti, allora ragazzi Oggi come avete letto dal titolo Andremo a vedere Andremo a montare Il puzzle Di Dragon Ball Subito, subito Subito, subito, subito Andiamo subito al succo Quindi dicevo Andiamo a montare questo puzzle Di Dragon Ball Non ci fate caso alla scritta 180 pezzi Non ci fate caso Quindi andiamo a montare Ma prima di iniziare Ricordatevi di Iscrivervi al canale Attivare la campanella, mettere like Commentare, condividere Tutte le cose che dovete fare sempre Mi raccomando ragazzi Allora ragazzi Iniziamo subitissimo A fare questo unboxing Di questo puzzle di Dragon Ball Ma quanto è figo ragazzi Questo l'ho avuto Come regalo Di Natale E lo sto aprendo Giusto adesso Per voi Per la prima volta Per farvi questo unboxing Per farvi questo unboxing E questa Diciamo Building Speed building Perché poi quando andrò a montare Andrà tutto in velocità Perché so già che ci metterò Un sacco di tempo Capito? Quindi iniziamo a vedere L'apertura Che poi Cioè L'apertura È un unboxing Cioè Un puzzle Che Andiamo a vedere Andiamo a vedere Allora Abbiamo la plastichetta La plastichetta Quindi Volevo anche questo Anche per questo video Quindi volevo ringraziare La collaborazione Della mia Ragazza Michela Che mi ha potuto Mi ha regalato Questo Fantastico puzzle Per farvi anche questo Video Grazie Michela Grazie mille E quindi Andiamo a vedere Abbiamo fatto La plastica L'abbiamo tolta Andiamo a vedere I I pezzi I pezzi Vediamo I pezzi Ma Sono Sono belli Grandi Sono Sono abbastanza Grandi Diciamo Non dovrebbe essere Difficile Fare questo puzzle Quindi Andiamo subito All'opera 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.